Notte bianca della musica con delle proposte musicali. Pesaro è sempre più città musicale e nell'anno in cui celebra i 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini organizza la sua seconda Notte bianca della musica, evento nato lo scorso anno per festeggiare l'orgoglio della nomina a Città Creativa della Musica Unesco del 31 ottobre 2017. Sabato 17 novembre, a partire dalle ore 17 e fino alle 2 del mattino, tutti i generi musicali animeranno le vie della città. Le piazze, i teatri, gli auditorium, il conservatorio, in un programma ricchissimo in grado di soddisfare anche i palati più fini. Ci saranno jam session e pianoforte libero, orchestre di liscio ma anche DJ set, recital, concerti dal balcone di Casa Rossini e musica a chilometri zero, arricchiti dallo street food, gli allestimenti al mercato delle erbe e da diverse mostre straordinarie, come quella dedicata al 68 o alla collezione della famiglia Mosca. Una vera e propria sinfonia di note ed emozioni, palazzi, vie e contenitori che risuoneranno come un'unica grande cassa armonica. Insomma, Pesaro sempre più città della musica, come conferma lo stesso vice sindaco e assessore alla vivacità Daniele Vimini. Soprattutto nella sua vocazione UNESCO che, come vediamo quest'anno, a partire dalla musica abbraccia poi altri generi, la poesia, il cinema, il video. Quindi la musica come elemento protagonista ma anche come filo conduttore e tra l'union delle altre arti, gli altri cluster, come vengono chiamati nei comparti UNESCO della creatività e quindi, diciamo così, anche un passo avanti di maturità in una rete in cui abbiamo scelto di stare da protagonisti. Da mettere sicuramente in agenda c'è una vera e propria chicca, un'esclusiva mondiale resa possibile dal Fano Jazz Network con lo zampino di Adriano Pedini che andrà in scena alle ore 21.15 al Teatro Rossini. Si tratta del concerto di Mike Westbrook, una leggenda del jazz affascinata dalla figura di Gioacchino Rossini che ha dedicato al cigno di Pesaro anni di lavoro. Ma chi è Mike Westbrook? È uno dei più grandi jazzisti inglesi, caposcuola della musica jazz inglese, a cui fanno riferimento tantissimi musicisti inglesi e dal 1984 che lavora sulle musiche di Rossini. Stavo aspettando il momento buono per poterlo presentare a Pesaro perché mi sembrava strano, perché è un lavoro così in esclusiva mondiale perché nessun altro è stato capace o ha avuto la volontà di cimentarsi con le musica di Rossini attraverso una rilettura con la musica jazz. E quindi c'è stata questa occasione di questa orchestra di 20 elementi che verrà appunto qui a Pesaro. È vero che molti già addetti ai lavori vorranno essere presenti perché sanno che questo è un concerto assolutamente esclusivo e che non verrà ripetuto in nessun'altra parte d'Italia.